In un luogo segretissimo del centro della città, Mata Kiri è in missione per ricevere il codice segreto del mese. Ma ella è all'oscuro che uno dei più diabolici agenti del CHAMP, Creto, ha scoperto il luogo dell'appuntamento. Proprio in quel momento arriva Clarence, il corriere segreto dell'ape, e Mata si appresta a controllare la sua identità con la parola d'ordine ufficiale. 33, 30, e andavano tutti e 33 a 30 trottati.